Massimo, questo l'axe, tutto la vicenza 1, 2, 3, 2, 1 O che è arrivo? La super machine! C'è un monesto più gracioso Po, un monesto Po, non è? Autore della mia vita ... ... Non mi vomitano in plazzo, a tutti i miei famiglii in camera Poate mi vomitano Lascia che io da un mano se vede, se lo faccio Sopri teo Ma non mi era Sì, io mi ammone tutto in dosso. Ciao! Ciao! Grazie a tutti!